Cari figli, con materno amore desidero aiutarvi affinché la vostra vita di preghiera e di penitenza sia un vero tentativo di avvicinamento a mio figlio e alla sua luce divina, affinché sappiate di staccarvi dal peccato. Ogni preghiera, ogni messa ed ogni digiuno sono un tentativo di avvicinamento a mio figlio, un rimando alla sua gloria e un rifugio dal peccato. Sono la via ad una nuova unione tra il Padre Buono e di Suoi figli. Perciò, cari figli miei, con cuore aperto e pieno d'amore invocate il nome del Padre Celeste, affinché vi illumini con lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo, diventerete una sorgente dell'amore di Dio. A quella sorgente beranno tutti coloro che non conoscono mio figlio. Tutti gli assetati dell'amore e della pace di mio figlio. Vi ringrazio. Pregate per i vostri pastori. Io prego per loro e desidero che sentano sempre la benedizione delle mie mani materne ed il sostegno del mio cuore materno. Pregate per i vostri pastori.